Tutto pronto? Si aprono le gabbie. Partiti i cavalli della seconda corsa. Parte bene dall'esterno Impressive che si porta subito al comando con all'interno Morgan Blonde che ha deciso di far partenza e questi due che hanno dato vita a un primo parziale piuttosto brillante. In terza posizione si sistema Ismael a precedere Infrarosso, poi troviamo la principala alias De Griff, Black Love Pantalica con la Liberté comunque a contatto. Siamo a tre quarti della piegata con Morgan Blonde che è passato in vantaggio nei confronti di Impressive, poi Infrarosso Ismael Pantalica con all'esterno la principala, poi in penultima posizione all'interno troviamo Black Love a precedere anche la Liberté. Siamo in dirittura d'arrivo, gli ultimi 500 metri con Morgan Blonde e i suoi 69,5 kg in vantaggio nei confronti di Impressive, si avvicina minacciosa dall'esterno Ismael, ancora più all'esterno ci sono Black Love e la principala ma torniamo in cima perché Pantalica sta insidiando dall'interno Morgan Blonde il quale tuttavia è ancora in vantaggio. Dall'esterno ci prova Black Love con un finale ficcante, Morgan Blonde è davanti, è attaccato all'esterno da Black Love, Morgan Blonde ha resistito ai primi attacchi, prova ancora Black Love al suo esterno, questi due che si staccano e lotta. Morgan Blonde contro Black Love, Morgan Blonde che forse tiene qualcosa su Black Love. Dobbiamo rivedere lo stretto ma molto probabilmente ancora Morgan Blonde, non vogliamo esprimerci con troppo anticipo perché il serrate di Black Love è stato davvero ficcante. Qui ancora davanti Morgan Blonde vediamo gli ultimi tempi di galoppo, che cosa dicono? Black Love si avvicina, recupera completamente il gap, andiamo un po' a fil di palo, secondo me ancora Morgan Blonde ha mantenuto qualcosa di vantaggio, dunque vince probabilmente ma in attesa di ufficializzazione. Salvatore Basile in sella Morgan Blonde che conquista così la vittoria numero 15 in carriera. Marco Morelli, Daniele Gallorini il team di Morgan Blonde ma chiaramente c'è una foto stretta con Black Love e Gian Pasquale Fois. Per il terzo posto c'è ancora incertezza perché Ismael e Infrarosso sono finiti veramente molto vicini. Per il terzo posto c'è ancora incertezza perché Ismael e Infrarosso sono finiti.